Emilio Bonifazi è il nuovo presidente dell'autorità idrica toscana. Il sindaco di Grosseto è stato eletto questa mattina al termine di una infuocata assemblea dopo che la poltrona era rimasta vacante da maggio, scadenza del mandato del predecessore Alessandro Cosimi. Forti le discussioni di questi mesi nel corso dei quali il neoprimo cittadino di Livorno, Filippo Nogarin, ha più volte rivendicato a sé il diritto naturale di successione in nome della continuità territoriale. Parole che ha ripetuto anche questa mattina ma che l'assemblea ha respinto col solo dissenso del sindaco di Volterra e l'astenzione di Pistoia e dei comuni casentinesi. La delibera numero 6 dell'ottobre 2012 è stata qui stravolta dando un valore di appartenenza di partito e non di rappresentanza di un territorio come sarebbe dovuto essere. Al momento del voto della delibera la tensione è salita alle stelle con un duro scontro verbale tra rappresentanti dei comitati per l'acqua pubblica, simpatizzanti di Nogarin, e in particolare i sindaci di Lucca e Siena, Alessandro Tambellini e Bruno Valentini. Bonifazzi, dopo la sua elezione, ha provato a gettare acqua sul fuoco auspicando un ruolo di Nogarin all'interno dell'assemblea e assicurando che l'autorità ascolterà tutte le segnalazioni da parte dei cittadini, delineando da subito gli obiettivi del suo mandato. Le autorità devono avere il compito di vigilare e di programmare su quelle che sono le attività dei gestori, di non essere subordinate a nessun tipo di realtà esterna e quindi di conseguenza questo è il lavoro che aspetta l'autorità idrica.